signori miei, signori miei trovo veramente difficile immaginare che la Roma in tre confronti col Bodo non sia riuscita a vincere una partita e oggi è il decimo gol che subisce da questa squadra qua dieci, in tre confronti è vero, è vero risuona quel 6-1 nella testa di alcuni giocatori nonostante poi oggi per 7-8 la squadra era diversa però sai a livello mentale quel risultato rimane nella testa senza ombra di dubbi anche il motivo per il quale nei primi 15-20 minuti ho visto la Roma molto molto contratta poi ha trovato il gol ha trovato sicurezza ma nei 90 minuti io non ho visto una Roma ancora una volta non ho visto una Roma superiore a questi norvegesi non è che posso dire c'è sfortuna ho avuto tanta sfortuna non mi sento di dire questo io mi sento di dire che la Roma in tre confronti non si è dimostrata superiore al Bodo Klimt e per me questo è molto 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 grave c'è l'ultimo confronto quello che si giocherà all'Olimpico e questo può ribaltare ancora il tutto quindi un minimo di ottimismo in un'altra serataccia decisa anche da alcuni episodi deve prevalere e spero che prevalga partiamo prima come al solito vi voglio invitare se volete lasciare un like a iscrivervi vi ringrazio perché siamo in 172.000 grazie per il vostro continuo sostegno e appoggio e come ricorderò sempre all'infinito anche l'Europa League teniamoci aggiornati sui risultati sul calendario sulla classifica sulle novità news l'app personalizzabile quindi volete essere aggiornati su una squadra in particolare sulla vostra squadra del cuore fate l'altro mamma mia mamma mia non disturbare ogni secondo la notifica ecco è anche OneFooter che inviano le notifiche per cui il link è in descrizione o QR code per rimanere aggiornati in maniera gratuita ricordiamolo gratuitamente l'ho detto prima sicuramente vediamo dei giocatori che in questa Roma sono portanti e adesso centrali mi viene da pensare Mkhitaryan perché poi è facile parlare della stagione di Pellegrini dell'ennesimo gol dell'ennesima giocata utile e della crescita di questo ragazzo qua come è facile parlare di Abram che a suon di gol sta trascinando comunque comunque la Roma un'altra precevole giocata nel primo tempo quando dribbla l'avversario con il controllo della palla mitica bellissima giocata però ci metto Mkhitaryan da quando è di nuovo salito un po' in cattedra lui vedo una Roma più più pericolosa e più temibile lì davanti è stato bello il gol il gol della Roma è stato molto 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 bello senza ombra di dubbio buona la giocata appunto di Mkhitaryan che lei ha fatto una roba importante e bravo Pellegrini a metterla proprio lì nell'unico punto nevralgico e non coperto dal portiere quindi aveva anche poco angolo per cui ha fatto una grande grande giocata e un bel gol lo ribadisco però non basta però non basta e soprattutto dal punto di vista secondo me mentale oggi l'ho detto parlando parlando oggi l'ho detto parlando di Lipsia Atalanta l'Atalanta prende il gol passa in vantaggio prende il gol 1-1 torna a macinare torna ad attaccare non si fa sovrastare dall'avversario in casa e l'avversario era Lipsia se permettete c'è anche un po' di differenza anche perché se consideriamo che il miglior giocatore della norvegia della squadra norvegese Sol Bacne che è quello che ha fatto più gol in conference del Bodo era fuori per influenza onestamente valore nettamente diverso ma l'Atalanta continua a macinare il gioco la Roma sull'1-1 si assoppisce si ammorbidisce perde smalto perde certezze e questo è questo quello che che non mi convince è questo questo step mentale che ancora io non non trovo nella squadra di di Mourinho e poi ovviamente andando agli episodi andando ai propri due gol specifici ci sono degli errori troppo 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 gravi troppo gravi troppo ingenui è vero che il primo tiro è stato deviato Rui Patricio lì combina una roba che comunque secondo me andava e doveva essere e doveva essere evitata mi è sembrato mi è sembrato troppo leggero troppo superficiale e forse ancora più gravoso Vigna Vigna che lì commette nei minuti finali da una posizione veramente inutile commette un fallo anche lì una leggerezza una superficialità un placcaggio che non aveva nessun senso e lì Roma su quella posizione là si perde la marcatura giocatore il numero 10 completamente libero e chi è che la butta dentro chi è che si trova lì a deviarla e quindi non posizionato bene neanche Vigna Vigna sono degli errori che paghi a caro prezzo sono degli errori che fanno la differenza io ho visto un'organizzazione difensiva interessantissima del Bodo Grimpt venivano sempre alti mettevano sempre i giocatori della Roma in fuori gioco cioè un'organizzazione veramente importante un lavoro corale non da poco del Bodo ripeto nonostante stiamo parlando di una squadra che è nettamente inferiore alla Roma io non mi posso aspettare che la Roma ripeto in tre confronti non vinca una volta questa squadra non vinca una volta e subisca dieci gol io non lo trovo non lo trovo ammissibile motivo per il quale al ritorno mi aspetto un'altra Roma aspetto un'altra Roma con una tempra diversa che non non cade cada cadi sotto i colpi dell'avversario che non cade ecco e speriamo bene è anche spiacevole stare qui a commentare una partita del genere poi serata nefasta anche perché sul gol sul primo gol cioè neanche le immagini cioè ma che credibilità possono avere veramente non lo so neanche le immagini di questa gara per cinque minuti ballava allo schermo non era ne colpa di Dazon ne colpa di Sky o di qualsiasi emittente ma semplicemente la regia del circuito internazionale no? le immagini arrivavano direttamente dalla Norvegia ed erano scatti stiamo parlando di una partita di conferenza che ancora una volta ripeto troppe lacune troppe 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 lacune vabbè ragazzi che voglio dire fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate le cade e ci aggiorniamo ci aggiorniamo nella partita di ritorno senza ombra senza ombra di dubbio grande abrace anche se ciao